Benvenuti su MeteoGrad, le previsioni meteo sempre con te. Iscriviti al canale e lascia un mi piace, grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per lunedì 9 settembre 2024. L'anticiclone delle Azzorre continuerà a stazionare in Atlantico rafforzando la sua estensione meridiana, consentendo un continuo afflusso di aria fredda polare verso l'interno di una saccatura perturbata, in approfondimento sui settori centro-occidentali europei fino in area mediterranea. Tale scenario barico alimenterà condizioni di tempo a tratti perturbato con vari impulsi temporaleschi e temperature in graduale calo iniziando dalle latitudini più settentrionali. L'estate finirà ovunque in modo brusco e ci attenderà un periodo ben al di sotto della media. Previsioni meteo in area italiana per lunedì 9 settembre 2024. Nord, ingresso di ampie schiarite su tutte le zone, in particolare sui settori occidentali e pianeggianti, mentre sui rilievi permarranno addensamenti sparsi accompagnati da qualche rovescio. La fenomenologia tenderà ad intensificarsi nel pomeriggio su Alpi e Prealpi di nord-est, dove i temporali tenderanno a sconfinare anche sulle pianure e verso sera su tutto l'alto adriatico, risultando a tratti intensi. Centro, giornata caratterizzata da tempo sostanzialmente stabile e soleggiato, salvo la formazione di qualche addensamento a ridosso dei rilievi che non è del tutto escluso possa dar luogo a locali piovaschi. Dal tardo pomeriggio formazione di qualche temporale in area adriatica, specie costiera, in rapido scivolamento verso sud. Sud e isole. Mal tempo al mattino all'estremo sud e sulla Sicilia, dove vi saranno temporali di forte intensità, accompagnati da downbrust e grandinate con annesso rischio idrogeologico di elevato livello. Il mal tempo sarà seguito rapidamente da ampie schiarite iniziando da nord. Bel tempo per tutta la giornata sulla Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-sud e sulle isole, a tratti in modo sensibile, specie laddove vi saranno temporali. Minime nel complesso stazionarie, salvo leggeri cali al nord. Termiche ad 850 etto pascali in calo, verso valori nella media. Ventilazione fino a forte tra ovest e sud-ovest, in rapida rotazione da maestrale nella seconda parte della giornata con raffiche fino a molto forti in area tirrenica ed insulare. Mari da mossi a molto mossi, con moto ondoso in ulteriore aumento, fino a mari agitati a tratti sul tirreno. Tendenza meteo in area italo-mediterranea fino a mercoledì 11 settembre 2024. Un'imponente elevazione azzorriana in Atlantico consentirà la discesa sul suo fianco orientale di masse di aria fredda di natura polare dirette verso tutto il continente europeo fino in area mediterranea. Questo scenario barico influenzerà in maniera diretta il tempo anche sulla nostra penisola che sarà soggetta a condizioni marcatamente instabili, specie in area adriatica e dal centro-sud, dove vi saranno rovesci o temporali, in particolare nella parte centrale della giornata. Da mercoledì pomeriggio nuovo peggioramento al nord-ovest con ingresso di temporali a tratti intensi, in trasferimento dalla tarda serata lungo la fascia tirrenica ed a tratti sulla Sardegna. Temperature in netto calo, specie da mercoledì. Ventilazione tra moderata e forte da maestrale. Grazie a tutti della vostra attenzione. Iscriviti ed attiva la campanella per non perderti gli ultimi aggiornamenti meteo. Grazie a tutti.